Agli amici e utenti dell'incrosto fresco, siamo a Castellazza Bormina, davanti alla porta di ingresso della locale società di mutuo soccorso. Una società antichissima perché è stata fondata addirittura nel 1855 e quest'anno festeggia i 160 anni di attività. Quindi nel 1855, ben prima che l'Italia fosse una nazione unita, addirittura prima della seconda guerra dell'Italia. E' un edificio che possiamo vedere veramente molto bello, è venuto in maniera fantastica e qui intervisteremo il signor Giuseppe Ferrari sul capogruppo di Castellazza che cambia a proposito della giunta giovanile. Quindi sarà un qualcosa di molto interessante. C'è anche una bellissima cancellata che stiamo favorito con lei. Ed è un luogo idillico e vorrei far vedere una cosa che sottolinea la cura dei luoghi. Cioè, come possiamo vedere, tre bidoni con tre destinazioni diverse nell'ottica di una perfetta raccolta differenziata. Qui davanti ci sono le scuole, l'istituto comprensivo pochettino, eccolo qua. E' una via centralissima, l'inferno. La vediamo un attimo dentro, Mattia, facci strada. Abbiamo immortalato i soci della società. Eccoci. Ecco qui. Questi. Ecco qua. E andiamo fino al bar. E poi faccio il bar. Sessionamento. Non abbiamo anche sale. Ecco. Stop.